Allora couscous con menta salmone e pomodorini e c'erano anche le zucchine ma non ce l'hanno fatta. Sembra buono. Assaggia e buoni. Sincero eh? Non ti piace? È buono, è esotico. Si vede che non ti piace? Non sai mentire, no no no. Senti, devo dirti una cosa. Anch'io. Dimmi. È successa una cosa all'università. Cosa? Una ragazza si è sentita male durante un esercizio in classe. Ha avuto una specie di attacco di panico. Io ero in corridoio, l'ho vista andare in bagno, l'ho seguita per vedere come stava, per soccorrerla. E mi è praticamente svenuta fra le braccia. Eh? Eh? Niente, l'ho sorretta. Ma una ragazza ci ha visti lì così vicini e ha freinteso. In che senso?